questo è qua sicuramente ne farò un altro sono ottime dei pensieri collega signore la polizia ciao signore scenda subito dall'auto perchè cosa ho fatto che sta facendo in quest'auto mi sto facendo delle pizze ok eh ok però non mi sembra il caso signore non può farsi quello che ha detto in un luogo pubblico non c'è nessuno intorno a me adesso siete arrivati voi ero in un parcheggio ero in un parcheggio privato vedi eh non è un parcheggio privato questo c'è l'accesso pubblico eh vabbè ma non c'era nessuno facciamo così a gente se le riesce a prendermi mi può restare tranquillamente va bene grazie mille le voglio bene anche io salve grazie di cuore ah questo ma va nel cantiere va nell'autostrada no ma va nel cantiere adam 2 converge l'ultimo 1099 no cazzo non l'ho visto non fa niente eh a parte non ci sei mai potuto andare destra 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 eccolo quel furfan acqua collega lo so come si rimane sotto no 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 non si preoccupi so già dove va so già dove va destra eccolo lui mo voleva guarda dove cazzo va destra ancora di qua si si di qua si si di qua nelle fogne andata eccolo laggiù sinistra sull'erba lo vede adesso è troppo veloce aspetta ci avevo il gps vede collega ah vero eccolo 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 quel maledetto ma che fa adesso ha scoperto che non può più seminarci ha fatto tutti i trick che sapeva si si arrenda ah ok no è dritto destra qua è dritto maledetto è dritto è dritto è dritto è dritto no si butta a nuoto destra qua destra va qua dentro qua dentro qua dentro 1 1080 Lamborghini Aventador siamo al circo 510 ci chiediamo supporto grazie eccolo dai su questo lo becchiamo ancora qua non ne ho più no il gps è sparito vabbè è dritto comunque è andato dritto no 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 ce l'abbiamo ce l'abbiamo qua eccolo là eccolo quel maledetto eh mo ne ho ancora una mano con lei Adam 2 forza signore no li metto l'ansia li metto l'ansia collega guarda guarda l'ansia l'ansia la forza si arrenda la smetta si arrenda si arrenda si arrenda si arrenda su ma lei vince sempre signore ma è un gatto dietro 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 ce l'hai dietro 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 si sta qua in giro da dietro eccola eccolo vai di nuovo ma è un maledetto ci riusciremo collega boh si si tanto abbiamo dei gps di nuovo si si di nuovo di nuovo ma che fa? ma che fa? un ciclo praticamente vediamo che se si allontana tanto questo qua dopo si si toglie si vai direttamente qua direttamente vaiia ma è andato sulla strada direttamente si 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 vai direttamente e che cazzo è andato no giù guardalo comunque mi ha fatto sudare con lei eh si sono stan qui di lei non ce la faccio più va bene va bene